Ciao Giovanni, ti ho portato in questa vigna perché è una vigna storica della mia famiglia, siamo nella zona delle Lurghe, una delle rinomate zone di produzione del gattinara. Qui come puoi vedere abbiamo degli splendidi grappoli di nebbiolo che diventeranno gattinara e gattinara riserva. Qui è un impianto che purtroppo dobbiamo lavorare a mano perché è impossibile entrare in filari così stretti con il trattore, per cui tutte le lavorazioni qua vengono fatte a mano. È un impianto che ha rifatto mio padre circa 35 anni fa, come puoi vedere dalla gamba della pianta. Abbiamo una vigna che è nell'età ottima per produzione. Quest'anno abbiamo un'uva splendida, come si può vedere. Abbiamo effettuato anche dei diradamenti, se vuoi ti porto su alcune piante dove il carico dell'uva era eccessivo. Abbiamo buttato per terra uva, come puoi vedere qua. Proprio per dare possibilità ai grappoli rimasti di maturare al meglio e di concentrare le caratteristiche del nebbiolo negli unici grappoli che poi rimangono in pianta. Questo per ottenere il massimo della qualità. Grazie. Grazie.